carissimi amici buongiorno bentornati sul canale la vedete come al solito qui al mio fianco c'è la black magic power cinema camera 4k ed è qui perché da pochi minuti ho aggiornato il firmware sicuramente tra i video che vi sono capitati in youtube se siete dei videomaker se siete delle persone che seguono il mondo del video vi sarà capitato un video in cui si parlava appunto di questo aggiornamento che black magic mette in opera non solo per la versione 6k pro che ne aveva veramente urgente bisogno ma anche per la versione 6k e 4k standard infatti con questo aggiornamento si possono fare una serie di cose che prima non si potevano fare c'è da dire che black magic seppur in maniera a volte grossolana di tanto in tanto mette su dei degli aggiornamenti che sono delle vere e proprie ristrutturazioni della camera mario palladino ha detto finalmente hanno tolto un po' di fango da questa macchina ecco è vero la black magic soprattutto la versione 6k pro che tutti sappiamo essere un'ottima macchina per quello che è il rapporto qualità prezzo purtroppo portava con e porta tuttora dei difetti importanti che però sono stati veramente smussati con questo aggiornamento dopo aver fatto l'aggiornamento ero felice come un bambino appena con tutti i suoi giocattoli nuovi purtroppo la mia felicità si è subito assopita a causa di un piccolo problema che è sorto dopo l'aggiornamento e quindi parto dai problemi piuttosto che dai vantaggi che ho acquisito come vedete sulla mia macchina attualmente ho installato il 1235 f2.8 seconda serie che reputo essere un obiettivo perfetto per questa macchina sulla versione 4k chiaramente perché perché è un obiettivo che copre un po' tutte le focali più usate dal 24 al 70 mm rapportato al mondo appunto micro 4 terzi e lo fa con un'apertura di diaframma f2.8 tra le altre cose lo fa con uno stabilizzatore d'immagine che mi dà la possibilità di utilizzare la black magic non dico come se fosse una macchina stabilizzata su cinque assi normale ma quasi devo dire che funziona veramente bene lo stabilizzatore di quest'ottica e quindi me ne sono innamorato quando l'ho comprato ho detto cavolo posso utilizzare la black magic non dico ripeto come una macchina stabilizzata ma quasi almeno da fermo si riescono a fare immagini perfette allora io da quando ho questo obiettivo utilizzavo molto spesso anche la messa a fuoco con il tastino che abbiamo qui dietro c'è un tasto appunto che serve a mettere a fuoco anche se con un fuoco singolo la domanda è potrebbe essere con un fuoco singolo che ci fai beh devo dire che di tanto in tanto stai su una impostazione stai per prendere la ripresa schiacci il tasto di messa a fuoco e fa comodo veramente non dover necessariamente stare lì con il tasto ingrandimento mettere a fuoco prima di fare rec era veramente comodo anche perché non sbagliava un cavolo cioè era di una precisione e di una qualità e la messa a fuoco singola incredibile anche per fare foto è vero che non è una macchina fotografica attenzione non sto dicendo che bisogna utilizzare l'autofocus perché magari i puristi del video subito immediatamente ma che ti serve l'autofocus tanto si riprende il fuoco manuale e va bene lo so lo so benissimo lo faccio tutti i giorni anche io non è un problema è che era una comodità e non indifferente a me piaceva avere questa aiuto no beh con l'aggiornamento adesso schiacci il tasto e con questa focale devo dire perché poi ho provato il 17 per esempio un e8 che ho dell'olimpus e il problema non c'è insomma loro hanno dichiarato che hanno risolto alcuni problemi di messa a fuoco che io non avevo e morale della favola adesso ho problemi di messa a fuoco cioè l'ottica non risponde più correttamente ogni tanto mette a fuoco una volta su 10 e altre volte no questa cosa mi fa incazzare proprio tanto perché voglio dire ne aggiusti tre e ne sfasci una mi dà fastidio detto questo e soprassedendo a questo problema andiamo a vedere che cosa è stato implementato anche se non sono il primo di certo a parlarne però mi fa piacere come diciamo responsabile come interfaccia video di questo canale dirvi quali sono state le funzionalità inserite e dirvi cosa ne penso allora la prima cosa che mi viene in mente è che è stata implementata è la scienza colore in sostanza da adesso è possibile avere anche sulla 4 barra 6k standard la scienza colore 5 quindi con questa modalità si ha a disposizione una maggiore elasticità uso questo termine in termini di acquisizione è un file sicuramente più flat molto più log rispetto a quello che eravamo abituati ad avere con la scienza colore 4 vantaggio allora diciamo che se voi utilizzate solo questa macchina e se vi piace poi colorare in post produzione di sicuro questa è la soluzione migliore perché amplia e non di poco la gamma dinamica l'approccio alla gamma dinamica e quindi alla colorazione certo è che se non vi piace colorare se non siete così avvezzi alla color correction beh diciamo che farete un po' più fatica personalmente amo molto di più questo approccio perché mi piace proprio avere maggiore elasticità poi in post produzione c'è da dire che con la versione color gen 4 comunque in da vinci potevi fare su un file raw la conversione in modalità appunto color gen 5 e quindi tutto sommato te la cavavi uguale mentre invece adesso sia in modalità progress che in modalità raw abbiamo la colorazione direttamente in color gen 5 questo è veramente utile ripeto se amiamo lavorare in post produzione e amiamo avere ancora più elasticità questo cambiamento ha portato anche un'inevitabile adozione in fase di registrazione di una lat precaricata perché perché mentre prima la colorazione gen 4 comunque ti dava la possibilità di vedere anche senza lat adesso devo dire è quasi impossibile girare senza lat integrata perché perché fai veramente fatica è un file grigio praticamente e quindi diciamo che cambia un po' l'approccio e quindi adesso devi lavorare per forza con una lat integrata pregi vantaggi svantaggi ripeto sempre dipende da molto da come amiamo lavorare e personalmente ho caricato all'interno della mia macchina diverse lat perché poi necessariamente devo vedere colorato rispetto a prima che non avevo questa necessità ora seconda cosa che è stata implementata questa veramente comoda utile piccola cosa ma molto comoda la possibilità di avere la leggenda del false color io non so quanti di voi utilizzano il false color io l'ho scoperto non tantissimo tempo fa come strumento utilissimo di lavorazione utilissimo a quando si lavora con più camere contemporaneamente perché ci permette di avere lo stesso allineamento in punti precisi di esposizione ma al dia di quello anche quando si lavora da solo se si conosce bene la colorazione da avere soprattutto per l'incarnato e riconoscere i punti di bruciato che su black magic vengono riconosciuti con il rosso eccetera insomma avere quella colorazione ci dà una gradazione appunto della quantità di illuminazione e quindi è molto comodo mancava una leggenda mancava un qualcosa che ti facesse capire quanto eravamo sopra o sotto nella nostra esposizione oggi finalmente abbiamo questa possibilità c'è una piccola leggendina forse un po' troppo piccola da leggere per me che sono ormai mezzo cecato seppur su un monitor da 5 pollici però è veramente piccola piccola sarebbe stato carino poterla cliccare e implementare un pochino eccetera però comunque nuovo importante upgrade è questo qui così come sempre in ambito esposizione abbiamo l'istogramma che si compone adesso dei tre colori principali più il colore alfa quindi è identificato sull'istogramma stesso appunto la combinazione dei colori e la possibilità di vedere quindi l'esposizione in maniera completa anche lui anche questo istogramma magari un pochino più grande o comunque cliccarci sopra e vederlo un po' più ingrandito sarebbe stato carinissimo devo dire la verità però grande passo in avanti è veramente interessante tra le modifiche che sono state dichiarate ma personalmente non ho avuto una impressione veramente così importante della differenza è l'accuratezza maggiore o comunque un'evidenza maggiore del focus peaking che adesso sembra essere stato implementato con tre unità di misura e comunque più visibile e più preciso quindi ci fa piacere il tutto perché chiaramente abbiamo a disposizione una macchina che necessita di questo soprattutto perché gli hanno levato il tastino autofocus perché per me l'hanno tolto praticamente almeno con la mia ottica ancora è stato dichiarato un miglior guadagno e risoluzione di alcuni problemi che c'erano sui canali audio mi auguro che questo sia vero perché spesso e volentieri su black magic si tribola un po' da questo punto di vista e poi come non parlare di quello che è l'aspetto forse predominante il motivo per cui è nato questo aggiornamento firmware la 6k pro ma anche la 4k devo dire e quindi anche la 6k hanno un evidente problema di colorazione di calibrazione del monitor quindi con questo aggiornamento sono state introdotte tutta una serie di funzionalità per la calibrazione dei pixel del monitor il reset color e soprattutto il bilanciamento di colore, tonalità, colore, quindi gradazione e quindi una sorta di white balance e al contempo una misurazione, una regolazione proprio della tinta colore questi due parametri in particolare danno la possibilità di allineare i monitor l'ho provato personalmente con un mio collega che ha la stessa mia camera che ha però un display completamente diverso di colorazione rispetto al mio e devo dire che allineandolo siamo riusciti ad avere più o meno molto difficile vedere adesso le differenze la stessa colorazione tra me e lui ora c'è da domandarsi quale tra me e lui era corretto rispetto a quello che poi sta riprendendo la camera però devo dire che adesso comunque almeno si riesce a lavorare con due tonalità molto simili la mia per esempio tendeva più al verde, la sua più verso l'azzurro abbiamo fatto una via di mezzo, adesso diciamo che le due macchine sono allineate devo dire che però nella 4-6K non c'era un evidentissimo problema mentre invece sulla 6K Pro è risaputo, si sa benissimo, si sapeva benissimo che c'erano evidentissimi problemi da questo punto di vista che uscivano ulteriormente fuori in maniera importantissima soprattutto quando si applicavano le LUT che andavano veramente a esasperare questo problema insomma un grosso passo in avanti che era importante oltretutto e visto che ho parlato di LUT un'altra cosa che è stata risolta era proprio l'importazione delle LUT che quando venivano importate e poi dopo non potevano essere cancellate adesso è possibile importarle, selezionarle, cancellarle quindi è stato risolto un vero e proprio bug di sistema altre cose che sono state implementate e funzionanti è la luminosità dello schermo che non solo adesso è possibile variare in termini di quantità di illuminazione il che ha vantaggio di una maggiore durata della batteria ma è anche possibile scegliere dopo quanto il monitor andrà in protezione si abbasserà di luminosità insomma tutte piccole comodità che possono risparmiare in termini di energia ma dare anche un migliore risultato durante le riprese perché magari se siamo in un luogo molto luminoso si abbassa in automatico la luminosità un'ultima cosa molto importante che è stata inserita è nella modalità di acquisizione RAW esiste la modalità Q costante, qualità costante che adesso è stata implementata con ulteriori due intervalli di acquisizione Q1 e Q3 piccole differenze da un punto di vista diciamo visivo ma grandi da un punto di vista poi di capacità di riprendere i file e quindi le informazioni sinceramente credo che ci vuole un occhio veramente tanto esperto per vedere questa cosa ma è comunque utile averlo insomma questo gioiellino oggi è ancora più maturo peccato veramente peccato 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 perché credo che non risolveranno mai e lo dico per esperienza perché Black Magic è fatta così diciamo che difficilmente va a correggere cose che non riguardano il proprio corpo le proprie attrezzature e quindi credo che il mio 12-35 fondamentalmente rimarrà un po' privato della sua capacità di mettere a fuoco e questo mi dispiace veramente tanto è un peccato lo dico veramente perché avrei fatto una recensione molto più positiva se non fosse stato per questo problema problema che per me è importante ripeto io non giro mai in fuoco automatico però volete mettere che state riprendendo a un certo punto schiacci il tasto metta a fuoco a quel punto che hai già preso il fuoco continua eventualmente con il movimento cioè è comodo piuttosto che dover sempre stare lì a fare una continua calibrazione che dirvi questo è tutto se avete domande in merito a qualche cosa in merito a questo tema potete chiaramente dirmi il tutto e scriverlo sotto il video e sto pensando ad un video in cui andare a descrivere per filo e per segno la Black Magic dalla A alla Z in termini di funzionalità del menu e quindi parlare veramente in maniera sostiva di tutta la macchina questo tipo di contenuti li riserverò ai miei sostenitori all'interno di Patreon Patreon è un canale riservato dove trovi tanti contenuti appunto riservati che a volte possono essere troppo per un approccio diciamo più superficiale e quindi vanno riservate persone che vogliono approfondire alcune tematiche beh sul mio canale Patreon trovi tanti approfondimenti e quindi c'è la possibilità appunto di seguire queste tematiche più da vicino e soprattutto di partecipare alle streaming le live stream con me e farmi le domande in diretta insomma una sorta di seminari che una volta al mese vanno ad approfondire tematiche di di rispetto per esempio il 4 di maggio terrò un seminario tutto dedicato alle riprese del videoclip musicale quindi approccio la ripresa approccio allo storyboard quindi come costruire lo storyboard come interfacciarsi con la parte l'attore quindi il cantante come organizzare il set come gestire gli strumenti da utilizzare quale fasi in quale ordine eccetera eccetera tutta una serie di cose che fa parte appunto del mondo della pre-produzione quindi dell'acquisizione del video proprio nel vero e proprio senso della parola e poi ci sono tutta una serie di contenuti dedicati al montaggio dello stesso videoclip ma chiaramente che partono dalle fasi di montaggio fino alla color al gradient eccetera eccetera insomma un vero e proprio corso possiamo dire un seminario di svariate ore in particolare di due ore e mezza che vengono tenute insieme e poi di tutta la parte di post-produzione in regalo cioè che possono essere fruite in separata sede o comunque successivamente tutto questo all'interno di una diretta streaming che per esempio otterremo il 4 di maggio per vedere questi contenuti basta semplicemente iscriversi al canale Patreon che link vi lascio qui in descrizione qui ok e che fondamentalmente ti dà diritto per un importo veramente simbolico di 7 euro al mese a sostenere il canale e a poter poi vedere questo contenuto e tutti gli altri e di mese in mese ad avere la possibilità di vedere gli altri contributi che potranno essere dedicati a svariate tematiche sempre in ambito video quindi dall'ambito della pre alla post-produzione software sistemi approccio eccetera eccetera insomma se sei interessato a queste cose mi aiuti mi sostieni e contemporaneamente porti a casa tanto tanto materiale per il momento è tutto io ti ho parlato oggi di questa Black Magic migliorata anche se non al 100% in puro stile Black Magic ci vediamo al prossimo appuntamento sempre sul nostro canale ciao